Questo è il mio abito di scena per la partecipazione che dovrò avere nel film Ultimo Giro in cui avrò un cammeo in cui rappresenterò la parte di un personaggio che molto mi assomiglia. C'è solo un problema, questo film si farà soltanto se avrà un esito felice la sottoscrizione che il povero Sanson ha fatto in internet. Sì, il progetto è basato sul crowdfunding, sul sostegno capillare, bisogna aderire al sito Eppelà. Il protagonista sarà un vero truffatore che fa il gioco delle tre carte e dà la grande attorialità, io lo ingaggio come attore e sarà il coprotagonista Gianluca Nicoletti. Io naturalmente non percepirò nessun compenso per questo film, lo farò soltanto per aiutare la famiglia Sansonna che è molto bisognosa. È così. E come si versano i soldi? Dovevano anche istruzioni. C'è il sito. Io non posso partecipare a delle promozioni, lo dice soltanto lui. No, c'è il sito Eppelà, il progetto ultimo giro su Eppelà si può versare con una Paypal oppure aderendo a delle informazioni che io darò su Facebook, chiunque mi contatti su Facebook potrà avere tutte le informazioni e anche sulla sceneggiatura spiegherò che cosa vado a realizzare. Si coglierà gli aspetti drammatologici molto interessanti di Gianluca. La parte noiosissima, la gente ha già chiuso YouTube a questo punto. Io la taglierò, se vuoi lasciarla, lasciala. Di semplicemente devo fare un film, non c'è una lira, lo faccio soltanto se qualcuno mi aiuta attraverso un meccanismo di condivisione. Infatti io la taglierei là, la lascerei. No, intanto rimane così, non si fanno tagli perché non c'è tempo, rimane così. Senti, questo casco da coglione non lo posso togliere? Puoi toglierlo, stai benissimo. No, mi sta strozzando, non parlo. Grazie.